Oh, ma non dovresti essere a scuola te? Sono già tornata. Ah, da che ore sono? Ben svegliato. Hai fatto tardi al distributore? Mi è successo qualcosa. Non ci vado più al distributore. Neanche al distributore, sei durato. I pakistani sono cattivi. Ma si ridono sempre, non crediene. Quindi adesso ti cerco un altro lavoro. Oh, vabbè, ma con calma però, eh? No, hai bisogno di un lavoro. No, io ho bisogno di soldi, che è ben diverso. Sì, come pensi di trovarli senza lavorare? E per caso di tesori nascosti di cui non ci hai parlato? E se non è? No, io ho bisogno di Leggiolo. No, io ho bisogno di un'amp istante. No, lui c'è un'amp istante. Grazie a tutti.